E ora gli spettacoli ha debutato ieri sera al Politea Marossetti di Trieste il musical della Disney La Bella e la Bestia arrivato per la prima volta in Italia direttamente da Broadway in occasione del ventennale dello show. Dopo oltre due anni di repliche lo spettacolo ha aperto il cartellone musical dello stabile regionale tratto dal film d'animazione premio Oscar del 1991 resterà in scena a Trieste fino al 7 dicembre nel servizio di Marinella Chirico le interviste ai due giovani protagonisti. Vediamo. La favola di Beauty and the Beast La Bella e la Bestia uno degli spettacoli più applauditi di Broadway è in scena fino al 7 dicembre al Rossetti di Trieste prima produzione Disney ad approdare in Italia ed è subito successo per questo mega show ispirato al film d'animazione premio Oscar nel 1991 con un cast internazionale, musiche dal vivo, effetti speciali e grande allestimento. Una storia d'amore oltre ogni schema e pregiudizio. Protagonisti i giovani Hillary Mayberger, nei panni di Belle, ed Eric Pidd, The Beast, la bestia che ritornerà a Principe Azzurro grazie all'amore della ragazza capace di rompere un terribile incantesimo. Ilari, i punti di forza di questo spettacolo? Io penso che i motivi del successo di questo show siano innanzitutto la storia e poi il marchio Disney e ancora le luci, le scene, i costumi, un cast di una trentina di artisti e altrettante persone al seguito. Certo, è una grande storia, bellissima e immortale. Siamo felici e emozionati per questa tappa telestina. È la nostra prima volta in Italia dopo 550 repliche in tutto il mondo, dove la Belle e la bestia è riuscita ad arrivare al cuore del pubblico di tutte le età. Come raccontereste col cuore i vostri personaggi? Belle ha sedici anni ed è alla ricerca di se stessa, una strada che culmina con la scoperta dell'amore per un uomo trasformato in mostro da un maleficio e che proprio grazie al suo amore potrà tornare uomo. La forza dell'amore è il messaggio più importante, l'amore che vince sulle cattiverie della vita, una magia che si rinnova nel segno della poesia. Is that ok?